Buonasera, un saluto a tutti gli intervenuti in questo secondo incontro in Second Life per la LIM sessione 3. Questa sera io volevo semplicemente introdurre la presentazione e porto i cozzisti anche qui ad intervenire sempre nello stesso forum del modulo 1 in cui abbiamo parlato fino adesso, anche per i contenuti di questa parte dove si troveranno delle indicazioni e dei contenuti riguardo le TIC in Europa strumenti del nuovo Web 2.0. Al termine di questa settimana chi vuole può farlo anche prima, io già ho aperto il compito, c'è un piccolo compito che non è nient'altro che una descrizione mirata però di ciò che abbiamo visto fino adesso in relazione agli argomenti scritti nei moduli e trattati quindi da voi. Ho caricato sulla piattaforma Mood anche altro materiale proveniente da quello che è stato l'incontro al seminario di Montecadini, quindi un report di tutti gli interventi e quindi rivedere anche qualcuno di questi interventi, qualche materiale proveniente dal seminario di formazione di Montecadini, dopodiché discutere ancora un po' del materiale prodotto dal CNR, tecnologie didattiche e lì vi ho proposto volutamente anche del materiale un po' remoto, diciamo il 96, ormai il 96 per lo sviluppo della rete sappiamo tutti quanti che è preistoria, però tutti gli articoli basati sulla didattica sono ancora validi, hanno una valenza, anzi li ho trovati molto interessanti e poi gli ultimi invece sono più recenti del 2010, quindi l'ultimo mi sembra sia del 28 giugno 2010. Dopodiché, diciamo divagando un po' da quello che è meramente l'argomento del primo modulo, per interessare un po' i corsisti e non annoiarci troppo con le carte, con la teoria, vorrei vedere anche un po' quella che è la cassetta degli attrezzi del docente del terzo millennio, quindi in particolare con riferimento a qualche esperienza che si può fare con la linea. Ecco, qui abbiamo presenti tutti quelli che sono i cinque moduli e oggi tratteremo, stasera tratteremo le tecnologie didattiche. Allora, riguardo le tecnologie didattiche, questa è l'animazione che ho dato, questa è la slide. Riguardo alle tecnologie didattiche, il primo punto era la definizione dell'ambito d'azione, poi avevamo da discutere le TIC in Europa, il primo modulo riguarda le tecnologie didattiche, quindi con la definizione dell'ambito d'azione delle TIC in Europa, e poi vedremo di fare l'integrazione della LIM dal punto di vista, di parlare anche dell'integrazione della LIM dal punto di vista internazionale. La scuola in questi anni ha tentato un processo di innovazione tecnologica, sono partite diverse iniziative, io mi ricordo i massicci investimenti che sono stati fatti per allestire le scuole con laboratori di informatica, mi ricordo anche che ero uno dei pochi ad utilizzarli e molto spesso questi laboratori restavano e restano purtroppo ancora chiusi e finiscono quindi con il predicare se stessi, nel senso che non sono entrati nella pratica didattica quotidiana. Ricordo anche il periodo fine anni 90, inizio 2000, quando ci propossero di fare le 100 ore di aggiornamento obbligatorio e anche quello fu un ricordo un grosso fallimento, ci siamo resi conto noi ma anche dal Ministero che non era possibile attivare un aggiornamento per circa un milione di docenti, l'ho scritto 800 mila, è comunque un'impresa dalle proporzioni esagerate anche di natura economica, ma poi si attivavano di corsi anche poco significativi che venivano seguiti, progetti seguiti soltanto per raggiungere quelle famose 100 ore, ma questo è stata una piccola parentesi, una sperimentazione del tutto negativa. Il DIT, poi, il Dipartimento per Innovazione Tecnologica, di cui oggi è capo dipartimentale Giovanni Biondi, maturò l'idea di, a partire dal 2005 che c'è stato DG Scuola, maturò l'idea di rinnovare gli ambienti di apprendimento e si partì, Biondi era solito quando ci incontrevamo fare sempre questo discorso del grosso divario tecnologico tra il mondo sociale dell'attuale civiltà e la scuola. E c'era quel bello spot, un video spot che parlava del viaggiatore nel tempo che non riconoscerebbe la società, con cartelloni elettronici, pubblicitari, strumenti digitali per la rilegazione del tempo e della temperatura disseminati nelle strade delle nostre città. Giovanni ed adulti che circolano con telefonini, iPod, iPad, notebook, che ascoltano musica con lettori mp3. Insomma, le informazioni in società viaggiano digitalmente ed in modo dinamico e reticolare. Lo stesso viaggiatore invece riconoscerebbe la scuola con la stessa lavagna di Arnesia di 150 anni fa, banchi, sedie, cattedre, penne, quaderni e libri cartacei e lezioni prevalentemente frontali, con un'acquisizione sequenziale e quasi unidirezionale delle conoscenze. Quindi questa è la premessa. e poi i progetti attivati. Progetti attivati dal 2006-2007 di Giscuola. Parlo di progetti nazionali al Ministero, perché poi ci sono anche diverse regioni che hanno adottato dei progetti locali. I progetti in Italia sono stati il DG Scuola del 2006-2007, che è interessato nelle scuole superiori, il biennio, due classi delle scuole superiori. Poi il DG Scuola è proseguito, ha mantenuto il portale, però ha cambiato, perché il DG Scuola, mi ricordo che era di una società, la engineering, mi sembra, dell'Emilia Romagna. Poi invece il nuovo scuola è stato prodotto proprio in ambito ministeriale ed era un po' quello che era il proseguimento del primo progetto, esteso anche alla scuola secondaria di primo grado. Poi è partito quello che è il piano di diffusione delle lavagne elettroniche, il primo piano nel 2009-2010, quindi l'anno scorso. Contemporaneamente c'era il progetto in nuova didattica, sempre nel 2009-2010. Il 2009-2010 è partito anche il progetto Classi 2.0, che prosegue anche quest'anno, interessando anche la scuola primaria e la scuola secondaria di secondo grado. Quest'anno è attivo ancora, abbiamo visto a Montecatini con la formazione, anche il piano di diffusione delle lavagne elettroniche, diciamo la prosecuzione del primo, del primo piano che ha interessato la scuola secondaria di primo grado. Il piano di diffusione delle lavagne, chiamiamolo 2, quindi 2010-2011, interesserà anche gli altri ordini di scuola, quindi la scuola primaria e la scuola secondaria di secondo grado. particolare, allora, parlando ancora di questi progetti, molto velocemente, il progetto digi-scuola che cosa ha portato? Il progetto digi-scuola ha portato a un aggiornamento di circa, che coinvolgeva 556 scuole secondarie di secondo grado, 3 classi per scuola, quindi ha coinvolto 3.668 classi, 2 docenti per classe, quindi 3.336 in tutto i docenti coinvolti, ciascuna scuola dotata di 6 PC, quindi le dotazioni tecnologiche erano 6 PC, 3 proiettori e 3 limbe ed un borsellino elettronico di 8.000 euro con cui acquistare il learning budget. Le offerte dei vari editori poi omaggiavano di solito le scuole di ulteriori lavagne elettroniche. In effetti nel nostro caso, all'IT di settore Majorana di Avezzano, abbiamo ricevuto un omaggio, un'altra lavagna elettronica da 77 pollici, in seguito all'acquisto di learning budget. Il progetto digi-scuola prevedeva anche una piattaforma i-learning, quindi c'era anche una piattaforma di insegnamento elettronico a distanza, tramite la piattaforma si potevano creare lezioni semplici, lezioni strutturate, corsi personalizzati per gli studenti, dotata di forum e chat, la possibilità di creare mappe concettuali e di soffrire di un'area per l'upload e il download delle risorse e dei materiali didattici, sia da parte dei docenti che degli studenti, creando così una reposito condivisa e l'opportunità di seguire gli studenti a casa. Quest'ultima possibilità, quindi quella di poter seguire gli studenti a casa, credo che sia, tramite piattaforma e-learning, credo sia una buona pratica didattica, ma non so quanto abbia attecchito con il progetto digiscuola. In effetti anche io, pur stimolando gli studenti in queste attività, non ho riscontrato proprio un grande intervento da parte di tutti, c'erano sempre quei pochi studenti più motivati, più interessati, ma di solito in queste attività quelli più interessati delle volte non sono più bravi, non coincide sempre l'interesse delle nuove ecologie con la bravura. Si riesce comunque a recuperare una bella fetta di ragazzi che praticamente con l'insegnamento tradizionale sarebbero persi. Quindi sarebbe una buona pratica didattica, però credo che i tempi non sono ancora maturi bisognerebbe educare in modo adeguato sia gli studenti e i docenti per poter svolgere in maniera ideale questo tipo di didattica. Il progetto, parliamo sempre di digiscuola, aveva una validità biennale e nei successivi anni scolastici è stato esteso anche agli altri ordini di scuola, però non si chiamava più Digiscuola. Come nome del progetto riguardava soltanto 2016-2017, poi si è trasformato in inova scuola ma ovviamente non aveva le stesse caratteristiche di Digiscuola. Ha mantenuto come Digiscuola il portale, quindi una piattaforma e-learning dove poter attingere risorse digitali e quant'altro.